Pronti? Pronti! Attenti! Via! Via! Chi sei tu? Mimma Benatti, fotografica. Io sono la Simo e come mai sono qua con te proprio questa sera? Ah, questa è un mistero lì! Ecco, lo so! Allora questa ragazza è pazzesca, dirà che è una persona molto molto bella e molto semplice e sapete che io sono abbastanza selettiva. Lo ha? C'ha 21 anni ed è tipo la super fotografa più richiesta del momento. Ci racconti un po' di te? Che cosa fai? Siamo qua innanzitutto all'evento di Patrizia Bebe, giri con me! Vai, gira! Siamo nell'unico punto del negozio in cui non si vede niente però! Si vede, si vede, si vede! Gira, 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 gira! Ecco lì! Allora, io sono andata a Berlino per Patrizia Bebe, abbiamo scantato la Golden Eyes Capsule Collection. Praticamente ci sono due fotografe, una era una famosa fotografa tedesca di Street Style che ha fotografato i capi in una chiave più giornaliera e poi a me invece hanno dato la possibilità di esprimermi al 100% e quindi in diretta la molto più sexy, in una situazione serale, al chiuso. Quindi praticamente le stesse capi, però le ho interpretate da due fotografi diverse. Ed è stato ovviamente pazzesco perché è il sogno di quando avevo la persona nata e poter viaggiare grazie al lavoro. Quindi quindi mi ha detto, si vai a Berlino, io non ero mai stata a Berlino e poterci andare per lavoro è stato pazzesco. È veramente il sogno della vita. Quindi siamo qui a questo evento meraviglioso ma tu hai fatto anche già un sacco di copertini e io t'ho visto. Eh, per adesso l'ultima uscita è stata quella di Playboy con Valentina Mignani per cui la precedente è stata su MaxLing. Lei è una baschetta bollista, si può dire. Beh, lei è una baschettar, non so. Sì, lei è una baschettar. Lei è una malta, è una modella, è una giocatrice di basket, è anche una presidenza televisiva. Lei fa tutto ed è fantastica perché se la vedi senza conoscerla sembra questa... cioè è altissima, quindi ti incute un po' paura. però è magrissima, tutta elegante, quindi mi sembra una principattina. Io invece no, invece lei è una scaricatrice di Porto. Ma lei è fiera di Estela e anche io sono fiera che lei sia perché è diversa da tutte le altre, è pazzesca. No, siamo, siamo un po' tutte scaricatrici di Porto. Ma com'è questa cosa? Io pure adesso perché noi ci siamo scoperte tutta sere ma... Famminiamo un po', vai. Andiamo a far vedere. Adesso vinciamo, poi muoio. Siamo le due rosse, labbione e l'amore. Sì, sì, questo è il vestito. Siamo le veline di Patrizia Pepe. Eccoci, rigiriamo. In questo caso, non lo so. Senti, dimmi un tuo desiderio, così a 21 anni. Cosa hai detto? Copertina di Vogue. Wow! Un desiderio, ho detto. Qui non è una cosa che mi aspetto che ci sia. Un desiderio. Ma i sogni si avverano? Sennò ho la campagna pubblicitaria di, non lo so, Dolce Gabbana, Versace. Avete sentito, signori? I sogni si avverano? Sì, tipo Stefano Gabbana, ciao! Siamo qua! Bene, tanti tanti baci dalla Simo e da te. Baci!